Ciao a tutti! La lezione di oggi non sarà una vera e propria lezione, più che altro è un'osservazione su come si comportano le proprietà del livello di testo quando c'è di mezzo una maschera. Bene, cominciamo. Andiamo nella timeline, selezioniamo il livello di testo, andiamo nel menu delle maschere, prendiamo la forma rettangolare e disegniamo una maschera qui intorno al testo. Ora veniamo qui nella timeline, selezioniamo il contenitore text e aggiungiamo dal menu animate la proprietà position. Bene, ora mettiamo in evidenza anche le proprietà di trasformazione di questo livello, quindi apriamo il contenuto della sezione transform. Ecco qui le cinque proprietà di trasformazione. Quello che voglio farvi notare oggi è che quando c'è di mezzo una maschera il livello di testo non si comporta allo stesso modo se lo spostiamo con la proprietà position del transform o con la proprietà position dell'animator. Infatti proviamo a spostare il testo con la position della sezione transform. Se noi lo spostiamo in basso o in alto, come vedete, si sposta tutto quanto il livello, il testo e la maschera. Mentre invece, se noi agiamo sulla proprietà position dell'animator, vedete che si sposta soltanto il testo ma non la maschera. In questo caso il testo è finito fuori dalla maschera, quindi non lo vediamo più. Questo è successo perché la proprietà position dell'animator sposta i caratteri ma non tutto quanto il livello. Ed ecco allora che questo fatto può tornarci utile in certe situazioni. Se per esempio vogliamo far muovere un testo dal basso verso l'alto e far credere che entri da un taglio all'interno della composizione, possiamo lavorare direttamente sul parametro position. Facciamo subito una prova. Prendiamo il cursore, mettiamolo al tempo zero. Lasciamo il testo qui fuori dalla maschera, accendiamo l'orologio della position dell'animator, avanziamo circa un secondo e riportiamo il testo all'interno della maschera. Se facciamo una preview, abbiamo quel tipico effetto di un elemento che sembra entrare da un taglio che si trova all'interno della composizione. E lo stesso ragionamento vale anche se avessimo fatto la solita animazione lettera per lettera. Proviamo a fare anche questo caso. Eliminiamo l'animazione fatta direttamente sul parametro position spegnendo il suo orologio e ora per far tornare il testo all'interno della maschera una lettera alla volta, lavoriamo, come ormai già sappiamo, all'interno del range selector. Quindi apriamo le proprietà del range selector, andiamo direttamente in advanced e diamo la solita impostazione ramp up al parametro shape. Poi stringiamo l'intervallo di interpolazione lavorando sul parametro start, lo portiamo più o meno al 50% e facciamo la solita animazione sul parametro offset. Al tempo 0 lo mettiamo a meno 100%, accendiamo l'orologio, avanziamo col cursore un secondo e mezzo questa volta, portiamo il valore di offset a 100%, facciamo la preview e anche in questo caso il testo viene tagliato dalla maschera perché stiamo lavorando con le proprietà dell'animator. Benissimo, questa breve lezione termina qua e ci vediamo la prossima volta. Ciao!